Per i prodotti di Wacom sono le migliori, non credo che potrei fare le cose che faccio senza Wacom, come fare con una macchina o qualcosa così, sarebbe impossibile. Ho un Cintiq 27 HD a casa, questo è quello che faccio con tutto il mio lavoro di comic e cose così. L'ho usato da quando ero 18, quindi 12 anni. Quindi è l'unica tablette visuale che ho usato. Uno strumento indispensabile per l'illustrazione moderna, sperando che il digitale ormai è il futuro, però senza tralasciare la bellezza, la qualità e la naturalezza del tradizionale. Cioè poter disegnare direttamente sullo schermo non ha limiti. Cioè poter disegnare direttamente sullo schermo non ha limiti.